Ciao a tutti e ben ritrovati nel magico mondo di ploppi Allora, come sapete, oggi, perché già ve l'avevo preannunciato in qualche altro video registrerò un nuovo tutorial riguardante i visi manga In pratica lo sapete perché lanciai un sondaggio in uno dei miei video e infatti questo è stato quello più votato Quindi vi faccio subito vedere gli attrezzi che andremo ad utilizzare per realizzare questo viso manga, insomma, a modo mio ovviamente Allora, andremo ad utilizzare questo che da un lato ha questo bullino qui e dall'altro lato questo altro bullino però un po' più piccolo e un altro dove da un lato ha questa parte più sottile non è come potete vedere come questo qui tondo ma è sottile e dall'altro lato invece quest'altro bullino ancora più piccolino poi un taglierino e immancabile per quanto riguarda le mie creazioni lo spillino che è quello là semplice che utilizzano le sarte poi ovviamente io utilizzerò diversi tipi di pasta voi potete utilizzare insomma il colore che preferite per quanto riguarda ecco scusate sta passando l'impossibile ovviamente quando giro i video l'impossibile manca a dirlo si ferma ok facciamo finta di nulla come dicevo io utilizzerò vari tipi di pasta io per esempio ho deciso di realizzare gli occhi sulle tonalità del celeste voi potete utilizzare i colori che volete e poi ovviamente immancabile il color carne e il bianco io utilizzo questo della Premo ma se avete il fimo va bene lo stesso e detto ciò spero che il tutorial vi piaccia se vi è stato utile lasciatemi un pollice in su e per quanto riguarda tutti i commenti lasciatemi sotto i vostri commentini e niente vi rimando al tutorial ciao allora prendiamo la nostra pallina color carne e iniziamo a schiacciare ad ogni modo come realizzare un viso base io già vi feci un video tempo fa e ve lo lascerò comunque in descrizione quindi schiacciamo e schiacciamo anche qui al lato e iniziamo a dare la forma del viso sarà comunque un viso molto tondeggiante perché quello che andremo a realizzare lo sapete è comunque un viso stile manga per pulire la pasta basta utilizzare una salviettina imbevuta e puliamo se per esempio come vedete questo è un puntino alquanto stile andiamo con il taglierino in modo molto molto sottile e ecco qua l'abbiamo eliminato poi per lisciare comunque la pasta ci ripassiamo la salviettina piano 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 come vi stavo mostrando con l'aiuto dei polpastrelli io comunque faccio tutto con le dita questo tipo di lavoro si inizia a intravedere il nasino ovviamente se utilizziamo una pasta un po' più morbida sarà più semplice per noi ottenere questo tipo di forma perché essendo più duro in questo caso il Fimo Soft sto utilizzando come color carne essendo un po' più duro risulta un po' più complicato riuscire ad ottenere questo tipo di puntina per il nasino però ecco magari più complicato sempre una parola abbastanza relativa nel senso che bisogna star lì un attimino qualche minuto in più a lavorare meglio la pasta e piano 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 noteremo la puntina del nasino in caso contrario cioè nel momento in cui non ci riesce basta prendere un pochettino di pasta per poi fare il nasino come già vi feci vedere nel tutorial del viso ma ad ogni modo ve lo faccio rivedere ok adesso occupiamoci degli occhi come sappiamo i manga hanno degli occhi veramente grandi quindi utilizzerò questa parte del bollino più grande per farmi i solchetti per farmi i solchetti per farmi i solchetti non ci riesce education non ci riesce no tanto per farmi i solchetti però poi vado ad utilizzare il bianco prendo questo della premo prendo il bianco prendo il bianco prendo il bianco prendo la pasta nera all'interno dell'occhio in questo caso abbiamo aggiunto delle ombre poi prendo la pasta bianca e fare i punti luce all'interno dell'occhio prendo il bianco e fare i punti luce all'interno dell'occhio a questo punto non ci rimane che fare le sopracciglia e la boccuccia le sopracciglia possiamo farle nere, marroni, rosa, come ci pare io in questo caso vi voglio far vedere come aggiungere le palpebre ci sono due modi in questo caso io utilizzerò il taglierino e non faccio altro che fare una leggera pressione sugli occhi sopra e così da formare questa linea aspettate che provo a mettervela a fuoco non so se si riesce a intravedere forse così sì cioè alla fine è una cosa molto sottile della serie ci sono ma non do fastidio e poi magari mi aiuto con questo strumentino qua per dare più tridimensionalità adesso facciamo le sopracciglia come vi ho detto anche in questo caso utilizziamo il nero perché in genere i cartoni animati ce li hanno nere quindi facciamo un salsicciotto abbastanza sottile sì, magari aspettate quando siete soddisfatte della forma schiacciate sì, magari aspettate no, questa è un po' troppo piccola adesso realizziamo la bocca e in questo caso io utilizzo lo spillino per fare la forma allora possiamo lasciarla così, semplicemente con un sorrisino oppure la possiamo aprire questo è un po' più tra virgolette complicato nel senso che ci dovete prendere un pochettino di più la mano io vado dentro spingo sopra ok spingo sopra e poi vado giù provo a mettervi un po' di zoom quindi spingo sopra poi vado giù e poi mi aiuto con questi attrezzini e vado a riempire con un po' di pasta rosa oppure oppure classica nera poi per fare l'ombra aggiungiamo un po' di pasta nera qui ai lati ok ok Ok, poi definiamo la bocca aggiungendoci i solchetti, qui e qui poi ci facciamo le orecchie un più pasta facciamo il cerchietto schiacciamo un pochettino facendo tipo una goccia e li attacchiamo e piano 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 gli diamo forma. Ora prendiamo dei colori, io utilizzo questa palette di ombretti che non uso ovviamente per truccarmi ma solo per le mie dolline e facciamo le guanciotte della nostra bimba. Ovviamente io sto utilizzando un pennellino e sfumiamo per bene magari qualche puntina di colore anche sul nasino, eccola qua! Eccola qui! Allora in pratica ci ho soltanto aggiunto qualche ciocchettina di capelli per farvi vedere come verrebbe il personaggio completo. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che in qualche modo vi sia stato utile. Se così fosse lasciate un pollice in su, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima! Ciao!